Domani 29 luglio si celebra Santa Marta. Per l'occasione su VCO Azzurra TV sarà in onda lo speciale dedicato alla chiesa di Santa Marta di Intra, realizzato nell'anno scolastico 2016-2017 dagli alunni della Quinta di Liceo Scientifico dell'Istituto Cavalieri di Verbania, evoluto dal Comitato Pro Restauro dell'Edificio Storico. Obiettivo riportare alla conoscenza e alla coscienza delle persone la chiesa, così i ragazzi hanno intervistato chi quel luogo l'ha frequentato e vissuto in passato. Lo speciale sarà in onda domani, sabato alle ore 11, alle 15 e 30 e alle 19. Intanto si sono conclusi concerti ciani Pro Restauro Santa Marta che da quattro anni portano a Verbania i migliori giovani pianisti italiani, in particolare grazie alla collaborazione con il Conservatorio di Imola Fucina di Talenti. Nel corso dell'ultimo appuntamento la consegna di un importante riconoscimento della Presidente della Camera Laura Boldrini a Nicola Losito, il pianista protagonista della serata. Un'onorificenza che ha premiato la bravura dell'artista ma ha anche dato lustro all'intera manifestazione. Nicola Losito ha proposto al pubblico verbanese pezzi di Mozart, Schumann e Chopin. Nato a Udine nel 1995 è il più giovane solista ad aver inciso un CD per Amadeus e si è aggiudicato importanti concorsi nazionali ed internazionali.